numero 5 grv smartwatch è la soluzione perfetta per coloro che cercano un orologio digitale affidabile e dal prezzo contenuto con un design semplice ed elegante caratterizzato da una cassa in acciaio e un comodo cinturino in silicone disponibile in vari colori vivaci è un accessorio versatile adatto a ogni occasione uno dei punti di forza di questo smartwatch è la sua funzionalità sportiva con nove diverse modalità tra cui passeggiata corsa escursionismo arrampicata e ciclismo potrai monitorare la tua attività fisica in modo preciso se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 4 il blackview è sicuramente un ottimo acquisto per coloro che desiderano uno smartwatch economico dal design minimalista e adatto a entrambi i sessi questo orologio è perfetto sia per l'uso durante l'attività fisica che per situazioni quotidiane sul posto di lavoro o nei momenti di relax è disponibile nelle classiche tonalità di nero grigio e rosa e include due cinturini intercambiabili uno in silicone ideale per l'attività sportiva e uno in tessuto da utilizzare in occasioni più eleganti il display touchscreen da 1,3 pollici offre un'esperienza di utilizzo discreta anche durante i movimenti e offre diverse opzioni di personalizzazione per il quadrante in descrizione trovi il link di questo prodotto numero 3 donerton è un smartwatch economico che offre molte delle funzionalità dell'apple watch ma ha un prezzo accessibile con il suo design unisex e il cinturino in silicone disponibile in due colori nero e rosa questo orologio digitale è adatto a chiunque sia alla ricerca di uno stile versatile dotato di uno schermo touchscreen da 1,4 pollici consente di controllare facilmente tutte le sue funzioni inoltre è possibile regolare la luminosità su cinque diversi livelli garantendo una visualizzazione chiara in qualsiasi situazione una delle caratteristiche più interessanti di questo smartwatch è il suo grado di impermeabilità ip67 il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 2 l'agtech è la scelta perfetta per le donne alla ricerca di uno smartwatch esteticamente piacevole ed economico con il suo design elegante disponibile in rosa e nero questo orologio non solo aggiunge un tocco di stile al tuo polso ma ti permette anche di gestire facilmente le tue notifiche di messaggi app e social network con un semplice tocco il cinturino in silicone e lo schermo touchscreen da 1,3 pollici lo rendono comodo da indossare facile da usare inoltre potrai impostare l'accensione automatica del display quando ruoti il polso per una visualizzazione ancora più comoda trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 il t quo c3 è un fantastico smartwatch che si colloca nella fascia dei 200 euro con il sistema operativo wear os di google offre prestazioni di alto livello e una serie di funzioni per monitorare la salute e l'attività sportiva il design è minimalista ed ergonomico con un elegante cinturino nero in silicone inoltre è possibile personalizzare l'aspetto dell'orologio scegliendo tra diversi watch faces intercambiabili perfetti per abbinarlo al proprio outfit in ogni occasione una caratteristica davvero interessante di questo smartwatch è la sua compatibilità con sia dispositivi ios che android se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione